guardate questo vergognoso messaggio pubblicitario è vero voi non siete il Salento avete perso la dignità si perde la dignità quando si tenta solo per meri interessi economici di infangare, delegittimare un territorio delle passioni, delle storie, delle tradizioni, delle culture delle economie di tanti agricoltori e olivicoltori di questa terra che stanno lottando contro una malattia che potrebbe anche colpire voi attenzione mi rivolgo con coloro che producono per conto dell'azienda Castria un olio e una vergogna noi abbiamo la dignità della lotta abbiamo l'onore abbiamo avuto l'onore anche di sollevarci contro coloro che sino a ieri si sono voltati dall'altra parte facendo crescere una malattia che non ha colpito tutti gli oliveti di Puglia e del Salento assolutamente no chiedo all'azienda Castria che pensa di poter vendere qualche litro in più di olio infangando le produzioni dell'intero Salento e dell'intera Puglia di chiedere scusa ritirare lo spot e tentare di averla meglio dal punto di vista commerciale con la qualità non credo che un olio di un territorio quello delle terre di gravina che dallo spot si evince non sarebbe l'Il Salento possa dire che l'olio è superiore soltanto perché le proprie olive non sono malate di axilella chiedo al Presidente della provincia al Presidente della Regione Presidente della provincia di Taranto e al Presidente della Regione Puglia Emiliano di intervenire e chiedere subito il blocco di questo spot pubblicitario antisalento razzista e vergognoso e chiedo al collega direttore della televisione di Matera TRM di non mandare in onda più nulla di quanto stiamo vedendo in queste ore l'ede in caso anche alla propria professionalità e deontologia non bisogna usare un dramma per poter tentare e mi rivolgo nuovamente all'azienda Castria per poter tentare di vendere sugli scaffali di supermercati o di altri esercizi commerciali una propria produzione dicendo soltanto che non è malata e non bisogna usare qualcosa di più